Il nostro progetto si basa su un'idea di rigenerazione urbana e sociale. Andando in giro per Parma ci siamo accorti della presenza di vari luoghi inutilizzati. Perché non trasformarli? Perché non renderli luoghi di cui i cittadini si sentono parte attiva? Per questo abbiamo pensato che fosse importante scoprirli con gli occhi dei cittadini, dai bambini agli anziani, per avere una visione completa della città invisibile. Crediamo che la rigenerazione urbana sia possibile solo se avviene anche una rigenerazione sociale. Non vogliamo solo scoprire luoghi, ma vogliamo viverli e farli vivere, attraverso spettacoli, eventi, per rendere la città il nuovo palcoscenico. Sarebbe l'occasione per noi giovani di metterci in gioco e farci protagonisti attivi di Parma, o come dice Pietetta, con Parma! Alla fine di tutto ci piacerebbe che uno di questi posti diventasse il nostro posto, cioè un luogo di espressione per noi e per gli altri della rete sociale che si è venuta a creare. Ci piacerebbe identificarci in un luogo che sia spazio di espressione, di creatività, di collaborazione tra noi e le realtà conosciute e le nostre pregui.